Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud per incidente. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina ha riaperto il viadotto Puleto ai soli veicoli leggeri con velocità massima a 50 km orari. A causa di due frane, sulla statale 12 della Betone del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Mozzano e sulla statale 64 Porrettana chiuso sempre in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!